Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Ancora non riusciamo a crederci che finalmente si sia chiuso questo cerchio. Era un'attesa questa che gravava su tutte le nostre spalle, sulle spalle di tutta la comunità, su Simone soprattutto. Il parroco di Barbara commenta con un misto di dolore e soddisfazione il ritrovamento del corpo di Bruno Lachiu. La salma è attualmente sepolta al cimitero di Vieste, in provincia di Foggia, e prima di 10-15 giorni non verrà rilasciata. Successivamente tornerà a Barbara, dove verrà ufficiato il funerale. Ancora siamo attoniti e non riusciamo a esprimere anche da un lato la vicinanza a Simone ancora una volta, e allo stesso tempo però anche un sollievo che un'attesa finalmente è stata ricompensata. Adesso aspettiamo il rientro della salma per fare il funerale a Barbara, ovviamente. Chiaramente, chiaramente. Ho interpellato subito il Vescovo della Diocesi di Senigallia, Don Franco, e siamo tutti in attesa appunto di poter dare una degna sepoltura a questa nostra compaesana. La gente ugualmente dice la fine di un incubo? Sì, sì, tutti comunicano questo sollievo da un lato, unito al dolore di questa grande tragedia. Appena avuta la conferma dell'identità dei resti dopo le teste delle DNA affidato ai carabinieri delle risse di Roma, il sindaco ha avvisato con telefonate e messaggi gli abitanti del paese. Nel paese in un attimo si è diffusa la notizia? Sì, perché abbiamo su WhatsApp, il sindaco già ce l'ha comunicato subito appena trovato. Secondo me non è un caso ad un anno esatto. Comunque sono contenta, finalmente almeno abbiamo un posto su cui piangere. Eravamo molto tristi per questo ragazzo e quindi è stata una gioia praticamente, solo che non so come ha fatto andare fino laggiù. Bello e brutto nello stesso tempo, bello perché comunque era ora che anche Simone fosse più tranquillo di essere degna sepoltura alla mamma. Brutto perché purtroppo per quello che è accaduto l'evento di per sé è un evento tragico. In occasione dell'anniversario dell'alluvione del 15 settembre alle ore 19.30 a Barbara ci sarà un momento di riflessione dedicato proprio al ritrovamento di Brunella.